Madame de Jean Paul, cosa può fare l'Europa, la Commissione per il Paesaggio, per promuovere il territorio attraverso il suo sviluppo sostenibile? Lavoriamo per una convenzione a Strasburgo che lavora per questo sviluppo sostenibile e 39 Paesi hanno firmato questa convenzione. Quali sono i suggerimenti che può dare al territorio della montagna del Friuli per valorizzare il suo paesaggio? Credo che questo paesaggio esiste già, è bello e bisogna fare in modo che questo paesaggio non sia danneggiato da diverse politiche e bisogna mettere in valore questo paesaggio. A proposito di queste iniziative locali, quali possono essere? Ci sono degli altri esempi in Europa che funzionano? Di solito le azioni si fanno a livello nazionale, regionale, locale. Esiste anche l'allianza del premio del paesaggio che giustamente premia le iniziative fatte per, non dico salvare, ma conservare la bellezza della montagna. Grazie per la visione!